Sono molto felice di essere quest'anno a Savignano con il mio lavoro che si intitola La luce necessaria. È un lavoro fotografico nato in Messico, nel quale ho indagato il rapporto con il lutto. Sono andato molto lontano in realtà per cercare qualcosa di molto vicino, perché secondo me la moderna società ha in qualche modo sublimato il rapporto con la morte e dunque andare molto lontano è significato per me andare molto vicino, perché era un'esigenza personale, quella di imparare a frequentare i cimiteri, imparare a frequentare i propri lutti e perché no anche le proprie paure. Dunque queste fotografie non sono tanto una ricerca di tipo etnografico di una realtà molto lontana, ma l'esigenza di imparare dai miei soggetti a rapportarsi con la morte e con il lutto.